sport trek touring 343 vib la roulotte del futuro e vediamo perché caravan notizie così la definita presentata ufficialmente la nuova new venture sport trek touring 343 vib una caravan che marca una differenza enorme tra il passato e il presente dei veicoli ricreazionali con soluzioni che vedremo poi su modelli anche di camper nel resto del mondo nasce negli usa e presenta quindi peculiarità tipiche di quel mercato come numero importante i parenti estensibili la nostra analisi però non verterà su questo particolare come su qualunque cosa già nota ma su quello che debutta come la cucina trasversale visibile nella foto tipica delle produzioni compatte italiane della seconda metà degli anni 70 e poi abbandonata ripresa oggi negli stegi se un tempo ricordiamo questa soluzione per le royal car le roller e le mirage nella fascia di lunghezza compresa tra i tre metri e tre metri e mezzo di scocca oggi la ritroviamo in questa new venture sport trek touring 343 vib una soluzione che consente così di poter scegliere rispettando le necessarie economie di scala diverse soluzioni di dinette tra cui una ed è qui la novità specifica per la scuola a distanza dei giovani studenti e un'altra per chi lavorerà a distanza ecco quindi il futuro che si delinea al di là dell'emergenza pandemica per il mercato delle caravan ovvero quello di chi soggiornerà in campeggio con la roulotte per la scuola a distanza eccociare rispettando le caravan ovvero quello di chi soggiorno e e Grazie a tutti.